Buonasera a tutti, benvenuti all'hotel Palazzo Vitturi, è un super onore per me tornare qui perché l'anno scorso ero una delle marie e quest'anno invece sono bella rilassata, sono l'angelo vestita da sera, quindi voglio ringraziare tutti quanti. Il cardomale è appena iniziato ma per me l'avventura vera e propria è appena iniziata, quindi spero che anche voi possiate divertirvi e possiate godere di questo magnifico spirito e atmosfera. Un bacione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!